Ribellatevi ed impegnatevi per cambiare la Calabria, così il procuratore di Catanzaro, baluardo della legalità e simbolo della Calabria bella e combattiva, Nicola Gratteri, ha giovani della GESCI, gruppo scout Cassano 1, prima di raggiungere la sala consigliare della città delle terme per ritirare il premio Giorgio Lapira. Difidate della gente che viene qui senza avere una storia alle spalle, senza avere un impegno, senza che si alza la mattina e si proclama antimafio, si impegna a combattere. Quindi state sempre con i piedi per terra, impegnatevi sempre nel sociale, già lo fate, siate costanti nell'impegno e soprattutto coerenti, altrimenti non siamo credibili, altrimenti la gente non crede in noi, nessuno ci cerca, perdiamo di legittimazione, perdiamo di potenza. Che messaggio vuole dare ai giovani affinché si riappropriano di questa terra, comunque non molto difficile? Ma io dico sempre che questi giovani devono cercare di, intanto di studiare, perché di studiare certo non pensando al 6, il 6 non serve, perché il 6 di oggi è il 5 di 20 anni fa e con il 6 si è già fuori mercato, come lo stesso laurearsi con la media del 20, 22, non serve a nulla. Dopo aver parlato con i giovani, il procuratore si è diretto verso la sala consigliare per ritirare il premio Giorgio Lapira. Esempio di magistrato sobrio, rigoroso, indipendente, testimone positivo del nostro tempo per il suo impegno e contributo quale baluardo di legalità nell'applicare i valori sanciti dalla carta costituzionale a regine alla dilagante criminalità organizzata e a ogni forma di legalità e questa è la motivazione con la quale a Castano all'Oionio gli è stato consegnato il premio. Cosa significa per lei ricevere questo premio? Certo, mi fa piacere perché è un premio, secondo me, per me prestigioso, per me importante. Il premio nazionale Giorgio Lapira è giunto alla sesta edizione. In precedenza è stato attribuito, tra gli altri, al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano e all'arcivescovo Pier Battista Pizzaballa, amministratore apostolico del patriarcato latino.